Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Jurassic World Evolution Allora, nella scorsa puntata abbiamo avuto qualche problemino con i velociraptor, non erano diciamo messi... non erano contenti, mentre adesso insomma sembrano abbastanza convinti di voler rimanere qua dentro e non rompere le scatole ai miei poveri visitatori Allora, vediamo cosa abbiamo trovato... Ah, ho capito qual è questo dinosauro, ok, ho capito chi è Carino, non mi dispiace, solo che in questo momento non saprei dove metterti, giovane, quindi... E... forse andrei con un brachiosauro Almeno sei un animale tranquillo, costarà una fracca di soldi considerando quanto sei grosso E poi devo fare un... ma... maiasauro, una maiasauro, che è una donna sembra, una... di sauno... una lei, una maiasauro, non so chi sia Ho sbagliato a fare quella spedizione, ma ormai l'ho fatta e quindi c'è poco da fare E... potrei anche mettere un altro raptor, eh, quasi quasi, sapete? Mettiamo un altro raptor Questo recinto però è un po' piccolo Allora, lo staff ne serve di più Qua possiamo forse abbassare 132.000, ma che abbassiamo? Ma neanche un po' Allora, bisogno di un altro recinto Perché tu sei quello che non ti piacciono troppe Bisogno di altri due recinti In realtà Un altro per un altro carnivoro Che ce li vorrei mettere Perché comunque Lo facciamo uscire lui Se va tutto bene Vediamo un po' che... che tipo di dinosauro è Perché onestamente non... non ne ho idea Questo è carino Che poi tra l'altro non mi ricordo se questo si mangia le uova Io da piccolo facevo dei libri sui dinosauri, ragazzi Ma non me lo ricordo Magari faccio qualche foto E li metto sul gruppo Vediamo un po' Innanzitutto speriamo che abbia un bel ruggito Carino, carino Questo se non ho sbagliato c'è anche sul film Carino, giovane Sei veramente simpatico Allora, vediamo un po' Si sente solo Cavolo, pure detti Senti solo Quanti dovete essere? Un branco di... Quattro Quattro di questi cosi Io devo incubare Ma siamo impazziti Porca miseria Quattro E dove metto io? Eh... Quattro Ho qualcosa di nuovo da farti vedere Quattro Eh, questo Sarrabbia Niente, dovevo fare subito un nuovo recinto No, 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 no Quello, quello Incazza mi fa uscire tutti quanti E allora Ehm... Pensiamo un attimino un sentiero Allora, qua lo possiamo fare Potrei mettere un altro recinto qui Attaccato a questo E me lo preparo Che perché qua c'è il muro Quindi... Ehm... Ok, qui ce l'abbiamo Quattro Obiettivo intrattenimento Si sente solo Lo so, mi dispiace Giovane E non sapevo ne volevi quattro Ci devo mettere Questi qua Perché tu ne vuoi solo otto Giusto? Gli anchilosauri ne vogliono otto? Eh sì, da uno a quattro Il gruppo sociale Quindi Iniziamo a trasferirlo Che tra un po' qua cresciamo Diventiamo un botto Allora Anchilosauro sei tu Ho capito Bravo Romale che ho capito Ok Dobbiamo poi rinforzare pure Perché Se no C'è altro Ho paura Onestamente Dei raptor Qua di lato E mettiamo anche un po' D'acquetta Pinosauri è pronta Rilascio Ehi Lasciamo il raptor Allora Fermo Ok Adormentalo prima che faccia danni E che se no rimaniamo fregati come L'episodio di prima Ok Ok Maia saura va bene E continuiamo sempre con il maia sauro Visto che Lo dobbiamo Dove stavo? Me lo so perso Eccolo vai Ok Dorme immediatamente Bravo Appena uscito Fai subito le nanne Vieni qua E vai Qua giù E qua Ragazzi Incubiamone un altro Eh Visto che hanno problemi Libera Ok E Speriamo che Insomma vada tutto bene Qua dobbiamo fare La struttura per gli ospiti Quindi potrei Potrei venderlo magari a 18 Ma l'ho fatto poi il Non l'ho fatto Ecco perché Fermi tutti Attività Visitatori Eh Manca Manca l'hotel Non ho fatto l'hotel Lo vorrei mettere quasi qui C'è solo il problema del Perché c'è anche una visuale Lo potrei mettere qua Ok Beh Ah Si erano silenziati gli elicotteri E Qua Ah Questo Si è uscito Ok sta uscendo Ok E qua Possiamo anche provare Ad abbassare magari a 20 Magari a 30 Eh Magari guadagniamo un po' meno Però Questo magari a 20 Parasaurosolus Com'è che si chiamava Aspettate Parasaro Parasauro Ma no Parasaurolofus Ok Che nome difficile che c'hai Ah Questi sono contenti adesso Si sente solo Lo so 76% Eh lo so Lo so C'avete ragione ragazzi Purtroppo Essendo soli Eh Non lo sapevo Che volevate essere tanti Io Ho Fatto quello che potevo E Continuiamo sempre con lei Cerchiamo di avere alto il Il valore Allora E vorrei vedere se No Il Questo dinosauro è contento Sei contento Perfetto Mentre I raptor Anche i raptor Sono contenti Quanti volete essere voi Allora Ho dovuto fermare un secondino il video Ma rieccomi Ogni volta che riprendo Vado con Le freccette Quando invece è Wast Allora Eravamo Incentrati su Il nuovo giroma Perfetto Quindi lei la possiamo fare Ma vorrei prima terminare Questi nomi impronunciabili Così almeno Non si arrabbiano Perché il comfort È bassino Tu ti senti solo Chi è l'Alpha Qua Il Cerato Mi sa vero Ah no Il Dragorex È vero Perché questo mena Il Dinosauro è pronto Vai giovanotto Ok abbiamo liberato Anche il terzo Che altro vogliamo fare Allora Sicuramente Mi servirebbe Un altro recinto Questo è poco ma sicuro Qua è fuori Quindi diciamolo Potrei mettere qui Un altro recinto Qua potrei mettere Una strada Iniziamo a pensarlo Perché sicuramente Mi servirà Un altro recinto Qua ne posso mettere Un botto Di recinti No Col cavolo Posso però girare Qua intorno Ok Ok Ho capito Beh diciamo che Potrei fare Una strada E magari fare Un Un quartiere No Però magari Mettere il primo recinto Qui Lasciarmi uno spazio Vuoto Una domanda interessante Questa che mi sto facendo Allora qua 2,40 2,40 Quindi aumentiamo A questo punto Direi di aumentare Un buon Porta No Non li voglio far Combattere Ora A proposito Andiamo a fare Un po' Di quest Magari Andiamo a prenderci Le quest Della divisione Di sviluppo Tu mi dai Sottostazione Grande Previsione Poi andiamo Poi andiamo Con la sottostazione Grande Ok Andiamo a fare Questo Vendi un Diplodus Con una votazione Di torno Almeno 104 Proviamoci Allora Lui lo rilasciamo Ok Quindi ora Questi sono Contenti Vorrei Terminare le ricerche Sulla Magliasaura E poi Andiamo a fare Il Un'altra Spedizione Allora Un Era Quale era Aspettate Che non mi ricordo Diplodocus Diplodocus Vediamo un po' Mappa La Navigazione Isola Una mappa Spedizione Diplodocus Eh Lo devo terminare Quindi A voglia A te Beh Adesso siete Tutti contenti No Sta socializzando Quindi questi Sono tutti felici Sono contenti Ottimo Perfetto Perfetto E Possiamo andare Anche con una Mayasaura A questo punto Li possiamo Modificare il genoma Li possiamo Mettere Savana Qua che ci abbiamo Robustezza Longevità Duri un pochino Di più Sempre qui Longevità Mentre qua Robustezza Quindi sei un po' Piucciotta Vaudazione 30 Abbassiamo Il 3% Però Magari Ti do Un po' Più di Valutazione Col fatto che Ottima Digestione Robustezza Vaudazione Più 2% Mentre questa Vaudazione Più 0 Beh Diamogli questo Allora Diamo di questo Qua Robustezza Più 5 Vaudazione Più 2 Ottima Digestione Beh Considerando tutti i problemi Che ci sono adesso Con le digestioni Gastridi Stress E quant'altro Diciamo Un dinosaurio Con una buona digestione Potrebbe essere interessante Ok Quindi voi adesso Siete contenti Sociali Ci siamo 414 421 Perfetto Voi siete contentissimi Quanti soldini mi date 233.000 Beh non è male Io vorrei quindi Fare a questo punto Un altro Un altro recinto Sapete che forse un altro qui Lo possiamo anche incastrare Un po' bruttino eh Devo essere sincero Un recinto un po' bruttino Ma che potremmo comunque Provare a sfruttare No no Pessima questa cosa Allora Se lo metto qua Domanda Lo metto qui Beh no In realtà Ci siamo quasi Cioè nel senso Lo spazio Lo spazio c'è Certo Non sei proprio Il massimo Del recinto Però insomma Per accogliere Qualche dinosauro Penso che Vada bene Cioè la cosa è Non penso che un dinosauro Si arrabbia perché Il recinto è un po' storta No Insomma magari mi arrabbio io Perché è bruttino Onestamente ma Cerchiamo di ottimizzare Lo spazio anche perché Nei commenti mi è stato Suggerito che Lo spazio in questo gioco È relativamente poco E devo essere sincero Me ne sono accorto Perché è davvero Davvero piccolo Quindi insomma Cerchiamo di ottimizzare Al meglio Lo spazio Abbiamo terminato Un'altra ricerca Quindi Un nuovo fossile Di un Di loco Ah pure tu sei un collone lungo Ok Continuiamo allora Col di loco Di Diplodo Diplodocus Vai Certo qua dentro Mi spote in faccia Poverino Se lo metto qua E sta in rabbia C'è anche le sue ragioni Però magari Magari invece Gli piace Un anchilosauro Mi piacerebbe Provarlo a Ad aumentare un po' Perché un po' Da solo Sei triste Magari un altro Un altro Lo potrei anche Inserire Allora Anzitutto mettiamo L'energia Che comunque È importante Ma come Li vedete La costruzione Ma che sta Dicendo Ok E possiamo Continuare Qua Perfetto Ah sta quasi Uscendo La mayasaura Ma perché Chissà perché Mayasaura Forse perché Era solo una donna Ma come si producevano Poi Il mayasauro Non so Forse mi sto Confondendo Mi ricordo Quando ero piccolo Sempre su questi libri C'era un dinosauro Che c'aveva I pollicioni Con le unghie Non mi ricordo Se è lui Sapete Boh Onestamente Non ricordo Liberiamo E vediamoci un po' Il video Beh oddio No Non mi sembri No Gli artigli Non ce li hai No No Non è lui Carino Sembra un po' Un paperone Ma Non sei male Ha il suo fascino Anche lui Non sei proprio Uno dei miei dinosauri Preferiti Si sente Pure te Quattro Pure te Allora Mayasauro Mayasauro Modifica Togliamogli Alpino O savana Eh no ragazzi Siccome anche lui Si sente solo Maya 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 Cavolo Potrei fare il tirannosauro Ragazzi Che bello Lo voglio fare Voglio farmi il tirannosauro In un recinto Tutto carino Eh vai Uno E due Ok Raggiungi il numero di usidio Per almeno Tremilacinque Allora Vediamo un po' La gestione Se c'è un Vabbè Il meteo No I rifugi Va bene Visibilità Va bene Eh mancano i bagni Divertimento Shopping E cibo Allora Sicuramente possiamo alzare Ancora Il negozi Così alziamo Questi valori E il ristorante Rimani a uno Eh non so ragazzi Se metterlo addirittura A quattro Ok ci siamo Eh potrei fare un altro Un altro hotel Proviamoci Potrei fare un altro hotel La domanda che io vorrei anche capire no Più che capire Ok È più che altro Gestione Isola No vabbè Questa no Capienza È la capienza Visibilità E benessere Sicuramente altri servizi igienici Vanno inseriti Hotel in attività Allora Un altro servizio igienico Lo mettiamo Comunque Costa poco Tutto sommato È comodo Servizi igienici Lo possiamo anche mettere qui Ok Potrei anche pensare di mettere un altro hotel O forse semplicemente aumentare con qualche carnivoro in più Potrebbe anche essere un'idea Potrei mettere qualche carnivoro Beh ragazzi Scusate Io Io ho un tirannosauro Lo voglio mettere Qua non ci arrivano le bevande Dovrei cercare di fare una specie di isolotto Anche qui Eh perché In realtà Giocattoli Fast food Ristorante Ok Vediamo adesso Con la visuale invece Eh infatti no Le bevande qua comunque non ci arrivano Dovrei fare un'altra zona Allora innanzitutto Scusate ma Ok Laboratorio genetico Uno Due Ok Vorrei provare a tirar su il tirannosauro Il genoma del tirannosauro perché se fallisco Eh È un casino Questa puntata lo voglio Lo voglio assolutamente fare un tirannosauro Ok Senti questa La magia saura è stata il primo dinosauro nello spazio Non lo sapevo È stata sullo space lab nel 1985 Come faccio a saperlo È nella brochure del parco Le piaceva anche dare testate Questo però non c'è scritto Ok Quindi abbiamo sganciato un'altra magia saura Allora Forse qui potrebbe servire un'area Pensata per Dei servizi Più che altro Fatemi un po' vedere Eh qua c'è un'area bella grossa Da poter utilizzare Da poter utilizzare Allora Quest'area Shopping e un divertimento Allora attività Eh Souvenir no Un fast food Ci bevevande 3 e 3 Quindi sicuramente Tu sei una buona scelta Salute basta di chi Ok Dicevamo quindi un fast food Fast food lo possiamo mettere E lo mettiamo qui E divertimento anche Shopping e divertimento Che ci abbiamo Sala giochi Con bevande e divertimento Ok E qua in mezzo Dovrei riuscire a Metterci Lui Perfetto Ok Questo l'abbiamo messo Poi Due milioni Andiamo ragazzi Andiamo Andiamo Come va va Are brutto E butto Due milioni Eh Purtroppo Più forte di me Non posso Non farla Non posso Non fare Un tirannosauro Ok Quindi la sala giochi C'è Eh Rarità Mettiamo di nuovo Generazione E lo vendiamo A 23 23 E qua Vendiamo Questo A 26 E Vediamo adesso La visuale Shopping Ok E però Bevande ci siamo Cibo Ci siamo Visibilità Ok Ok Tu sei pronto Quindi vai Liberale Ok Anche il Magliasauro Adesso è contento Non so se Metterci Un'altra Eh Perché qua Ho sbagliato A posizionare Queste strutture Mettiamo L'azione di Saurio Almeno per Tre minuti Ok Siete tutti Siete tutti Contenti No Ah Vedi Questi girano In branco Socializzano Carini Vedi Qua c'è un altro Magliasauro E si vengono Tutti incontro Che teneri Quindi abbiamo Un branco Qua E questi Piccoli Però Qua ci sono Dei Dragorex Eh Voi siete Un po' Piccoli Il trucerato Che solo Poveretto Uno Sei Vabbè Però Uno Va bene Sei contento Con uno Ehm Ragazzi Se qua Ci deve andare Il tirannosauro Eh Ah ok Ok Già è tutto Acciaio pesante Ehm A questo punto Potremmo anche Mettere un altro Hotel Tutto sommato Perché no Potremmo metterlo Qua giù Allora Prima di tutto Vorrei fare Un cambio Di Eh Di Energia Quindi fare Eh Una cosa Di questo tipo In modo D'ale Da Buttare giù Questi Che non mi servono E a questo punto Andrei a A costruire Un altro Albergo Qui no Perché c'è L'acqua Ma se la tolgo Invece Natura Acqua Ehm No Aggiungi no Rimuovi No Foresta no E alza Giusto Oh livella Livella forse Ok Proviamoci Magari c'entra Ragazzi Qua un albergo È perfetto Ah c'era Ok 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 vai Abbiamo messo Anche un altro albergo Nessun blackout per un minuto Quindi un diplo Agodus Quindi questo ci stiamo lavorando Eh vabbè Ormai Ho smagato troppo Quindi quello L'ho dovuto fare Il 50 vai Stiamo al 56% Vai vai Allora I bagni Ci dovremmo stare No Quindi qua Ci abbiamo La stazione Lunga distanza Poi Non c'è che dire Dei fai un bel bascone Allora Domanda Non posso Metterlo Dritto Questo Cosa Eh Scusate Eh Non è possibile Inserire Una curva Bruttissimo Tutti i sistemi Di sicurezza Del parco Usano Energia Elettrica Senza Non oso Immaginare Cosa potrebbe Accadere Hai fatto Grandi Sforzi E hai ottenuto Ogni risultati Con il contratto E va bene E l'altra La dovrei inserire Dove Secondo voi E possiamo Metterla Tipo Qui In acqua Ok Eh Scusami No Come la curva Troppo stretta Ok Allora Rifacciamola Da Qua Scusate Devo riprendere La struttura Vabbè Brutto Modifica Il percorso Quindi Da qua Ok Questo abbiamo fatto Poi Andiamo a sistemare Questo fossile Che Questo lo vendiamo E abbiamo Una salute Bassa Ma come mai La salute Bassa Di questi Qui Ma ce l'hanno Da mangiare Questi Ma mi sa Che questi Non mangiano Non c'hanno Cibo Poverini Recinti Eh Ve lo metto Subito Hai ragione Vai Adesso ce l'hanno Poveracci Bello Tutto sto casino Che c'è qua E qui Manca l'energia La mettiamo Subito Mi richiede Energia Un secondo C'è il tirannotauro Ma prima Devo dare Energia Qua Ok Allora Questo è il momento Più bello Del gioco Per me Bello E ma devi fare Ruggito Però No Non si senti Si è sentito Smorzato No No Mi hanno rovinato Mi hanno rovinato Il gioco Mi hanno rovinato Il gioco Me l'hanno fatto Sentire smorzato Isola Non me ne frega niente Fammi togliere Sto cosa Che mi fa Una strage Sì Isla Pena Questo Mi ammazza Questo piccolo pezzo Di roccia Volcanica Sarebbe La peggiore Di tutte No Non si è sentito Ah sì La lucertola Tiranna Beh Sapete che vuol dire Che non si è sentito Il ruggito Sì Devo fare un altro Di tirannosauro E dai bambini Di tutto Perché Perché Rappresenta Tutte le nostre Paule Gruppo sociale 1-1 E ciò Che crediamo Di aver sconfitto Anche se ha smesso Di esistere Prima ancora 1-1 No 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 Andato giù Oddio Non so Quanto ci Ci vuole Un po Che Che cosa è successo Esattamente Che Che cosa è successo E vabbè Paesaggio Paesaggio Acqua Vai Ok Che C'è Questo ti ha fatto Una capriola Poverino Ti è spezzata Tutte le gambe E Ok Beh In teoria I guadagni Dovrebbero essere Alti Insomma Un tirannosauro Non è male Comunque ragazzi Spero che questo episodio Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti